16 luglio 1944, 16 luglio 2016, 72 anni dalla liberazione della città di Arezzo dai nazi fascisti. Una cerimonia appoggio del sole davanti al monumento dedicato alla resistenza dopo la deposizione delle corone di alloro al Sacrario dei Caduti lascia tanto amaro in bocca. Tranne le autorità e i rappresentanti delle associazioni partigiane nessun aretino soprattutto giovani e bambini ad ascoltare perché sia giusto ogni anno ricordare quanto accaduto 72 anni fa. Nessuno insomma che possa portare nel tempo la memoria degli uomini e delle donne che hanno pagato con la propria vita la nostra libertà e la nostra democrazia. L'indifferenza non può vincere sul ricordo e sulla memoria altrimenti i fatti di Nizza purtroppo saranno sempre più frequenti. Oggi ricordiamo 72 anni fa la liberazione della nostra città e spesso tendiamo a dimenticarci che quella liberazione ha significato anni di democrazia e di pace e purtroppo oggi anche se si fanno tanti errori nella costruzione di un'Europa che spesso ci appare lontana e forse anche realmente dobbiamo però comprendere tutti che il periodo è molto difficile e che nelle divisioni rischiamo davvero un periodo difficile dove la guerra si gioca con strumenti differenti ma dove non è detto che possano accadere fatti drammatici nelle prossime mesi. Non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo vivere la nostra quotidianità con tranquillità, non dobbiamo farci spaventare ma dobbiamo anche comprendere che forse è il momento in cui l'Europa deve riscoprire il senso di appartenenza per essere più forte contro le difficoltà che ha al proprio interno che purtroppo dopo ieri sera abbiamo visto sono anche all'esterno di essa.